Allora, ciao a tutti, buongiorno e ben ritrovati sul canale, buon lunedì e buon inizio settimana. Oggi, come potete vedere, torniamo a parlare di fumetti e più nello specifico torniamo a parlare di Dago, in particolare il numero 295 uscito in realtà oggi, anche se qui è uscito qualche giorno prima, per cui io ho già avuto occasione di leggerlo e oggi ve ne parlo sperando di far cosa gradita. Il numero 295 intitolato Le Indemoniate, con soggetto e sceneggiatura di Luciano Saracino e disegni di Sergio Ibanez. E voi spero perdonerete l'orrendo suono che si sente alle mie spalle di questo aereo che sta ricollando, io purtroppo non posso proprio fare niente per contrastare questo triste fenomeno, quindi spero solo che finisca il più in fretta possibile. Ecco, dicevamo, con soggetto e sceneggiatura di Luciano Saracino e disegni di Sergio Ibanez, che poi sono gli stessi due autori responsabili del 290, la caduta degli idoli, ovvero l'albo che io tutte le volte cito per quanto riguarda Dago, ma se non altro perché è il numero con il quale mi sono approcciato a questo personaggio. Quindi già la presenza di questi due autori mi interessava, mi attirava, se non altro, per vedere che cosa ne sarebbe uscito fuori. E devo dire che sono... posso dire di aver fatto bene a comprare questo volume, perché la storia qui raccontata mi ha interessato molto. Innanzitutto ci sono dei disegni molto interessanti, per come la vedo io, perché Ibanez io ho letto soltanto due storie finora di questo disegnatore, appunto, ma lo considero un disegnatore veramente notevole, in grado di tirare fuori delle belle tavole. Ecco, non sono male i disegni di cui magari parleremo in maniera un po' più approfondita dopo, ma è la storia... quello... insomma, il motivo, ecco, che più mi attratto di questo... l'aspetto che più mi attratto di questo albo è la storia di Luciano Saracino che si rifà ad un celebre fatto di cronaca risalente intorno al 1600, ovvero i diavoli di Ludon, Ludon, questa cittadina francese, in cui, nella quale, insomma, un prete tale Grandier era stato accusato di fondamentalmente stregoneria per aver sedotto, per aver, sì, sedotto, insomma, una presunta, ecco, seduzione di alcune monache che vivevano da sole in un convento e che poi a lungo andare erano uscite fuori di testa, anche perché la maggior parte di queste monache risiedenti in questo convento non c'erano finite per... non c'erano finite, scusate, non riesco ad azzeccare una parola questa mattina, non c'erano finite per motivi di vocazione, ma per tutta una serie di altre motivazioni, poiché all'epoca, comunque, si finiva in convento perché non si avevano altre possibilità, ecco, ci si rivolgeva alla religione per quelle motivazioni. Mi viene in mente una famosa frase che Eli Wallach dice nel Buono, il Brutto e il Cattivo, no? Dalle mie parti due cose si potevano fare per sopravvivere, o il bandito oppure il prete. Ecco, per cui, più o meno potrebbe essere la stessa... la stessa cosa, nel caso di queste ragazze che in antichità finivano in questi conventi per mancanza di dote oppure per una determinata impossibilità nel trovare altre strade, nel trovare altre vie di sopravvivenza, per cui la stragrande maggioranza delle persone che risiedevano in questi conventi erano prive di vocazione e l'essere umano non è fatto per stare da solo, per cui è chiaro che un gruppo di donne costrette a vivere per sempre senza una presenza maschile al fianco prima o poi partono di testa, insomma, escono fuori di testa, impazziscono e questo prete, questo grandiere che era conosciuto per essere comunque una persona seducente, un uomo comunque dotato di un certo fascino aveva provocato questo genere di emozioni, questo genere di sensazioni in queste monache. Da lì poi partì tutto un processo, è partito anche un altro aereo, io non posso soltanto scusarmi, ecco. Non posso fare nient'altro anche perché se dovessi registrare nuovamente da capo questo video, a parte il fatto che non ne avrei voglia, ma se dovessi registrare da capo questo video un'altra volta sicuramente beccherei un altro aereo per cui qui andiamo a giorni, ci sono giorni in cui non ne decollano molti e giorni in cui ne decollano in maniera anche piuttosto fastidiosa a altri comunque, niente, mi dispiace, posso solo dire questo. Dicevo, questo prete, questo grandiere che aveva fama di essere un uomo molto fascinoso, molto attraente per gli schemi dell'epoca venne accusato di stregoneria per questo episodio, c'era anche coinvolto Richelieu e quindi alla fine morale della favoletta finì sul rogo. Purtroppo queste cose all'epoca accadevano più spesso di quanto accadono oggi anche se comunque in alcuni paesi del mondo il rogo no, non esiste più però comunque di assurdità legate alla religione ne accadono anche oggi in alcuni paesi soprattutto di matrice islamica adesso io non voglio fare assolutamente il critico verso questa religione anche perché a me della religione detta proprio in maniera sincera non me ne frega nulla però anche oggi in alcune realtà islamiche accadono comunque delle assurdità legate alla religione, non si parla più di roghi o di cose simili ma qualcosa accade ancora oggi da tutta questa vicenda trae spunto questa storia intitolata Le Indemoniate nella quale insomma Dago dopo aver conversato così con Benvenuto Cellini che qui appare nel... sì che qui fa una breve apparizione più che altro è presente nel prologo di questa avventura tra l'altro mi si è scollata la pagina così adesso di questo album vabbè, chi se ne frega comunque dicevo dopo essersi intrattenuto ecco con Benvenuto Cellini ed essersi un po' divertito in sua compagnia Dago accompagna una ragazza di nome Clarissa che è guidata dal suo tutore in un convento in un convento gestito da una badessa di nome Isabel da suor Isabel in questo convento inizieranno a verificarsi delle allucinazioni collettive da parte di queste ragazze appunto che li sono rinchiuse e la badessa quindi questa suor Isabel di cui adesso... sì ecco vi posso trovare delle immagini vedete queste sequenze che riguardano suor Isabel suor Isabel che subirà il fascino del nostro Dago del nostro Cesare Renzi che verrà a un certo punto accusato di stregoneria quindi fondamentalmente Dago vestirà i panni di Grandier in questa storia anche se ovviamente il finale sarà ben diverso finale che tra l'altro ovviamente non vi spoilero anche in questo caso sono presenti queste allucinazioni dettate dalla follia collettiva voi potete mettervi nei panni di giovani ragazze nel fiore dei loro anni costrette a vivere tutta la vita così isolate in un convento quindi tagliate fuori dal mondo è chiaro che ben pochi riuscirebbero a reggere proprio dal punto di vista psicologico una situazione del genere la storia è molto anche potremmo dire sì, coraggiosa ecco in alcuni sì, potremmo definirla una storia coraggiosa perché portare come posso dire portare fumettisticamente argomenti simili non è semplice non è semplice e non è anche è piuttosto difficile qui secondo me viene viene fatto molto bene ecco sì c'è anche una determinata potremmo dire critica nei confronti della di non tanto della religione ma di alcune di alcune cose che la chiesa ha fatto ecco nel corso degli anni per cui secondo me è una storia molto bella io vi stavo cercando ecco finalmente l'ho trovata vi stavo cercando una una tavola di Sergio Ibanez che mi ha colpito particolarmente per l'espressione che Ibanez riesce a dare a Sor Isabel a questa badessa a questa madre superiore secondo me guardate che espressione veramente incredibile io veramente non saprei da dove partire per tratteggiare un simile disegno Ibanez secondo me è veramente un disegnatore eccellente qui forse in questo albo l'ho apprezzato meno rispetto alla caduta degli idoli più che altro perché qua ci sono delle griglie forse un po' meno inconsuete rispetto a quelle della caduta degli idoli però lo stile è sempre molto interessante per come la vedo io sì è uno stile tipicamente argentino l'abbiamo imparato a conoscere in questi anni per cui siamo lontani dai virtuosismi bonelliani anche se in realtà i fumetti bonelli non sono i più virtuosi dovremmo tirare in ballo i fumetti americani statunitensi perlomeno perché anche questo è americano dovremmo tirare fuori i fumetti statunitensi per parlare di veri e propri virtuosismi però comunque qui pur non essendoci quel virtuosismo tipico appunto di altre realtà fumettistiche secondo me i disegni di Banez risultano essere molto molto interessanti guardate anche Dago qui forse un po' più cicciotto Dago però viene viene ritratto veramente molto bene non siamo ai livelli di Gomez o di Salinas io conosco più Gomez che Salinas perché sto seguendo adesso la nuova ristampa probabilmente magari qualcuno di voi sa però Ibanez fa un bel lavoro non è non è affatto male come non sono male i disegni di Ibanez e tra l'altro Dago in questo in questo numero arriverà anche ad avere un'allucinazione lui stesso riguardante suo padre non vi posso dire molto di questo frangente diciamo perché io non conosco la storia di Dago come sapete lo leggo da poco tempo per cui per me questo scambio che vi è fra Dago e suo padre mi è risultato abbastanza incomprensibile perché non appunto non conosco le origini del personaggio magari in futuro se avrò occasione mi informerò a riguardo però per il momento non non ci ho capito molto sinceramente tra questo scambio di battute fra Dago e il padre è presente anche ovviamente il come posso dire la carica erotica ecco la sfera sessuale in questo in questo albo perché alla fine si parla di questo si parla anche di sesso della dell'attrazione sessuale che spesso non spesso che può portare alla follia soprattutto per appunto delle monache rinchiuse in un convento loro malgrado non per per motivi di vocazione per tutta la vita per cui va secondo me un numero che va a mettere il dito nella che va a mettere il dito in una in delle tematiche che solitamente non sono trattate dai fumetti e che ancora oggi non dico che siano tabù ma insomma la chiesa di cose sbagliate ne ha fatte tante forse non ha mai chiesto scusa in maniera in maniera molto convincente ecco per cui questo questo fumetto questa storia è molto bella devo dire è una storia interessante e dopo una serie di numeri di inediti di Dago che francamente non mi avevano colpito alla sceneggiatura c'era Ray Collins gli ultimi due numeri che vedono Saracino autore del del soggetto e della sceneggiatura mi hanno nuovamente colpito positivamente per cui non ci resta che attendere il prossimo numero che uscirà dal 14 di luglio quindi esattamente tra un mese che sarà intitolato i re senza memoria vi faccio vedere la quarta di copertina ai disegni ritroveremo Sergio Ibanez questo non può che farmi piacere mentre invece autore della sceneggiatura sarà Nestor Baron o Baron quindi purtroppo non ci sarà Saracino alla sceneggiatura io Baron non lo conosco come sceneggiatore vedremo un po' che cosa ci tirerà fuori e ci viene anche fatta vedere la copertina in quarta la prossima storia sarà intitolata il re senza memoria con questa copertina nella quale spicca l'aquila a due teste quindi sì l'aquila a due teste vedremo un po' che cosa che cosa ci riserverà il prossimo numero di Dago io vi ringrazio per l'ascolto mi scuso veramente per per i rumori insomma i fastidiosi i rumori prodotti dagli aerei come potete vedere adesso non c'è più nessun aereo che decolla e si va a momenti qui e mi dispiace ma io non sono responsabile ecco della programmazione dei decolli forse per me non ne decollerebbe neppure uno io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata ci rivediamo nel prossimo video a voi piacendo ciao a tutti e alla prossima ciao 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 ciao